ciao sono daniele besana di vpok.it in questo video parliamo del consent mode versione 2 che cos'è che differenze ci sono con la versione 1 come ci si adegua e anche cosa aspettarsi dopo l'adeguamento e per parlare di questo argomento ho invitato igor papo che è un marketer ed è anche il marketer di vpok ciao igor ciao ciao daniele ciao a tutti allora nel settore internet c'è sempre più attenzione verso la privacy e l'europa se anche diciamolo si è messa un po come paladino del di questo tema con gdpr poi pari adeguamenti che ci sono stati poi successivamente adesso siamo arrivati a questa versione 2 di questo consent mode e ecco facci capire un po portaci un po dentro a questo questo argomento che cos'è questo consent mode versione 2 allora perfetto allora ti faccio cerchiamo in questo in questo video di andare un pochino più sul pratico per dare un po un contesto no senza andare troppo a parlare in legalese perché magari chi poi vedrà questo video vuole avere un riscontro pratico no allora ho solo una piccola premessa lo spazio economico europeo sta si sta sempre più attivando per proteggere i dati degli utenti ok e quindi tutti i player che stanno entrando e che sono dentro questo mercato google compreso ma facebook insomma tutti i grandi player che comunque ehm lavorano una quantità di dati incredibile devono adeguarsi in qualche modo alla trasparenza e al alle linee guida della dell'europa in merito allora quindi per siccome nei prossimi mesi anche anni ci saranno sempre più novità in questo senso e diciamo che questa roba diventerà ancora più rigida quindi ci stanno ci saranno sempre più paletti il lavoro dei nuovi marketers diventerà sempre più complicato da una parte eh d'altra parte però queste piattaforme si stanno muovendo per allinearsi il prima possibile fare la propria mossa per dire ok io intanto sto facendo delle cose attivamente eh google in questo caso sta facendo questo quindi cosa sta dicendo sta dicendo ehm io sto abilitando un nuovo strumento che è questo consent mode ehm versione 2 per ehm rendere più trasparente ehm diciamo il modo in cui noi di google eh gestiamo i dati ma in cui anche l'utente che utilizza strumenti di google ma non solo gestisce i dati ehm del da i dati degli utenti che navigano il nostro sito web quindi banalmente la consent mode quindi è uno strumento eh attraverso quale ehm il l'utente eh dando delle preferenze o negando delle preferenze eh trasmette i dati a google ok banalmente e quindi eh c'è è il modo in cui viene trasmesso il sistema di tagging ok senza entrare troppo nello specifico quindi eh banalmente grazie a questo sistema nel momento in cui eh l'utente trasmette ehm certo tipo di autorizzazione eh attraverso un sistema di cmp in questo caso quindi è il classico magari bannerino che noi vediamo no sul sito quindi dove acconsento a non so ai alla profilazione ad essere a far sì che i miei dati vengono storati dagli strumenti di tracciamento oppure vengono utilizzati per personalizzare le campagne pubblicitarie ecco eh questo con questo strumento c'è più trasparenza c'è più comunicazione allineata tra quello che un utente fa e i tag che vengono effettivamente attribuiti da google ok? Ok sì chiaro quindi quando parli di cmp che cosa cosa ti riferisci? Allora cmp sarebbe consent management platform eh praticamente sono dei sistemi che permettono di gestire i consensi sul nostro sito banalmente parlando quindi ehm se ehm i vari non so cookie bot ubenda oppure in realtà potresti anche costruirti una cmp interna no? Che però vabbè è una rottura di scatole non indifferente hanno praticamente dei sistemi che ti danno a disposizione quindi con l'installamento di questi banner eh questi sistemi eh nel momento in cui soprattutto hanno delle eh partnership con google vengono diciamo sintonizzati banalmente con il sistema di google per cui nel momento in cui tu installi un sistema cmp dopo magari ne parleremo in dettaglio come si attiva la consent mode v2 però in poche parole nel momento in cui tu installi una cmp che ehm e tramite questa cmp attivi la consent mode v2 questa è perfettamente allineata alla nuova diciamo al nuovo strumento la nuova normativa per cui tutto quello che viene diciamo comunicato dall'utente dai dai click dell'utente viene trasmesso a google e quindi eh e si attivano o o non si attivano determinati tag e quindi diciamo c'è una trasparenza una comunicazione dei dati in poche parole ok sì quindi sono è quindi un classico bannerino eh con le preferenze quindi tutto questo è semplicemente tra virgolette per eh tra tradurre le preferenze che eh esprimiamo quando diamo il consenso o lo neghiamo eh sul bannerino che appare su tutti i siti eh per tra tra traslare questo nostro consenso in una serie di di operazioni che danno che danno appunto il permesso o no a a google di fare un certo certo tipo di attività con i nostri dati esatto esatto quindi che cosa qual è la differenza con la versione 1 che c'è stata fino a qualche mese fa allora eh banalmente ehm la la versione la differenza più grande è che vengono eh diciamo aggiunti dei nuovi parametri di trasmissione dei dati ok allora guarda se tu mi dai eh la possibilità di condividere un attimino lo schermo eh ti condivido eccolo qua eh praticamente questo è un articolo ehm sul mio blog abbastanza dettagliato su questo tema poi eventualmente lasceremo il link direttamente che però ehm in questo articolo c'è questa immagine che è l'immagine che eh ci trasmette direttamente google proprio per spiegare questo concetto e la trovo molto utile praticamente prima quello che eh veniva diciamo comunicato ai tag di google era erano due parametri analytics storage e ad storage ok ehm quindi diciamo analytics storage era un parametro che di fatto ehm consentendo al alla ad utilizzare diciamo analytics storage tu davi la possibilità di tracciare storare i dati banalmente dai vari strumenti di di analytics ok ehm per quanto riguarda invece ehm ad storage il consenso di ad storage era un consenso che riguardava diciamo l'utilizzo eh del diciamo del tuo del tuo dato ai fini poi pubblicitari banalmente ok quindi ehm per essere utilizzato all'interno dei sistemi di google ads eccetera eccetera ok adesso praticamente vengono aggiunti altri due dati a questo che ad user data e ad personalization ok ehm quindi praticamente qui c'è non soltanto un discorso di ehm storage e quindi di conservazione del dato pubblicitario tra virgolette ma in questo caso nel momento in cui tu consenti ehm che ehm ad ad user data e ad personalization quindi eh a consenti anche eh che i tuoi dati eh possono essere utilizzati ai fini di eh remarketing ai fini di creazione di pubblici personalizzati e e quindi tutti quei diciamo segmenti e audience personalizzati per far modo di consentire a te che sei il proprietario del sito che fai le campagne pubblicitarie banalmente di fare il retargeting e il remarketing ehm su sui visitatori che hanno per esempio visto il tuo sito traducendolo non so io Igor visito il sito di WPOK eh la prima volta lo visito non sono tanto convinto dai suoi servizi o perché non ho letto bene eh poi però ci ripenso e dico però effettivamente questo WPOK non era male e magari non sono tanto convinto ma eh mi appare un banner no o su Facebook ads o su navigando un sito di settore che mi dice proprio così mi dice guarda che io mi ricordo che tu hai visitato questo sito ridai un'occhiata perché ci stanno insomma delle cosine che magari non hai letto bene no e quindi io sono più portato a cliccare su questa ad perché già ci sono stato e a convertire poi questo ho spiegato proprio in maniera ortifrutticola però permette di rendere e di utilizzare anche delle dei strumenti di campagne pubblicitarie un pochino più avanzati. Ok quindi abbiamo due opzioni in più per rendere la la scelta e il consenso più granulare giusto? Esatto esatto e ora mh per quanto riguarda diciamo il funzionamento anche qua eh ti ripercorro un pochino velocemente le l'esperienza no dell'utente in questo caso in questo articolo si è spiegato bene però di base c'è la navigazione dell'utente sul sito ok la comunicazione del consenso e quindi tu appena etterri sul sito vai a spuntare no sul bannerino le varie preferenze a questo punto la consent bond comunica il consenso eh positivo o negativo concesso o non concesso ai tag di Google a quel punto Google sulla base di quello che è stato eh deciso diciamo dall'utente si adegua per attribuire a quella visita determinati tag ok quindi se storare non storare i dati se utilizzare il dato di quell'utente per i fini di remarketing o non utilizzarlo eccetera e quindi lo comunica e poi c'è il discorso di modeling ok il discorso di modeling è un discorso che in realtà diciamo è la parte positiva per marketer eh di questa di questa faccenda perché perché mh nel momento in cui tu eh non hai il consent mode attivato eh e l'utente nega i eh consensi tu non hai la possibilità di attribuire per esempio eh la conversione a quell'utente banalmente tramite una campagna pubblicitaria quindi tu fai una campagna pubblicitaria e magari tutti gli utenti che convertono ma che non hanno dato il consenso senza aver attivato questo consent mode sul tuo sito tu non li vidi attribuiti a quella campagna pubblicitaria per cui non riesci a misurare l'effettiva efficacia di quella campagna grazie invece al modeling che cosa succede? Succede che ehm con eh Google sulla base di dati aggregati eh sulla base di alcuni strumenti di intelligenza artificiale riesce comunque a ad attribuire eh a quella campagna delle conversioni ok? Che sono hanno una certa attendibilità no? Che è molto alta per cui tu comunque tra due campagne A e B riesci a capire grazie a questo modeling qual è quella più efficace qual è meno efficace magari dopo facciamo un piccolo esempio pratico che ho fatto proprio su questo articolo per approfondire il tema ok? Ehm vai diciamo che ehm se tu hai domande su questo tema va bene sennò poi andiamo anche a parlare di queste due configurazioni diverse che secondo me è molto interessante. No vediamo configurazione base configurazione avanzata quali sono le differenze. Ok. Teniamo presente eh diciamo i clienti di WPOK e tante persone che hanno siti web cercano le cose la la configurazione più adatta ad essere implementata e mantenuta nel tempo senza troppa complessità ecco. Ok. Allora parliamo subito di questo termine configurazione base e configurazione avanzata eh questa cosa ehm non riguarda strettamente il meccanismo tramite cui tu effettui la configurazione ma è una roba un pochino più di back end un pochino più tecnica cioè ehm la maggior parte per esempio di eh di CMP quindi di vari player eh tipo non so Ubanda facciamo un esempio no che magari quello che conoscono tutti eh per esempio tu puoi attivare la eh Consent Mode direttamente tramite loro e tra l'altro non devi fare un granché eh praticamente devi semplicemente aggiornare il bannerino e loro praticamente pensano a tutto ok ma eh lo sono stati loro già ad aver attivato la configurazione avanzata del Consent Mode per cui diciamo il sistema del di Consent Mode che tu attivi tramite loro è avanzata ok quindi non 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 l'avanzato in questo caso non corrisponde al fatto che tu magari smanetti cinque ore per per impostare i parametri esatto praticamente si tratta di un dell'infrastruttura che viene attivata ecco forse più di configurazione io parlerei proprio di infrastruttura in questo caso ok rispetto invece alla base la la grande differenza tra queste due configurazioni qual è è che in una tu hai eh diciamo una ehm gestione ancora più granulare dei consensi rispetto all'altra quindi su questo schema che noi vediamo qua che spero che si possa vedere abbastanza bene eh praticamente si capisce molto bene questa cosa allora ehm nel momento in cui tu hai la configurazione base ehm la configurazione base ehm lavora come una sorta di semaforo semaforo rosso e semaforo verde diciamo non c'è il giallo eh nella configurazione invece avanzata c'è anche il giallo ora voglio utilizzare questa metafora quindi cosa significa significa che nel momento in cui tu hai una consent mode ehm base configurata sul tuo sito e vengono dati tutti i consensi quindi è il primo scenario vedi questo qua di fatto non cambia niente quindi vengono tracciati vengono storati i dati di analytics vengono vengono diciamo archiviati i dati ai fini pubblicitari vengono utilizzati i dati ai fini di remarketing nel momento in cui però ehm questa viene negata quindi vengono negati i consensi nessun tipo di dato viene tracciato di base ok e non solo non viene non viene tracciato nel senso che non vengono comunicati i tag a google e quindi tutte le azioni di cui noi abbiamo parlato non possono essere diciamo effettuate nella configurazione avanzata nel momento in cui vengono dati i consensi è la stessa cosa della configurazione base nel momento in cui non vengono dati i consensi su determinate cose perché in realtà un utente può dare un consenso su una cosa e su un'altra non può darla no anche qui c'è tutta una serie o tutta una documentazione se uno vuole approfondire la approfondisce però andiamo un pochino al dunque nel momento in cui ehm non viene da non viene dato un consenso di comunicare diciamo questi dag tag a google google che cosa fa eh tramite un sistema di ping non di tagging diretto lui fondamentalmente si conserva in modo aggregato e anonimo questi dati qua per cui indirettamente poi riesce ad arrivare ad attribuire delle conversioni degli eventi anche agli utenti che non hanno dato il consenso questo è in modo molto ortofrutticolo tecnico eh poco tecnico anche perché io non sono un uno sviluppatore io questa roba cerco di utilizzarla ai fini di marketing no quindi pure io cerco di andare no nel nel pratico quindi per avere il modeling e per avere visibilità anche nel caso in cui non c'è stato un consenso serve a utilizzare modalità la modalità avanzata esatto anche se eh per dire anche quella modalità base c'è un modeling che avviene ok questa è una cosa che all'inizio io non avevo capito bene per esempio no proprio a primo ad un primo approccio anche lì c'è un modeling però c'è un modeling molto più soft perché di base le informazioni a questo punto che vengono utilizzate nel modeling sono soltanto delle delle informazioni aggregate di google e che non provengono praticamente dal tuo flusso di dati diretto questo detto proprio modo così no e mentre con la consent modo avanzata c'è un modeling molto più attento e molto più preciso che ti permette praticamente di recuperare tutta una serie di dati poi ripeto anche qua per esempio ehm tutta questa cosa di cui ho parlato vedete sull'articolo vengono specificati diversi casi no che cosa succede se uno in in ognuno dei scenari sia che questa diciamo ehm autorizzazione viene data sia che viene negata che cosa succede ad analytics storage che cosa succede ad user data che cosa succede succede ad 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 personalization che sono diciamo i quattro parametri quindi se volete approfondire li trovate tutto ok bene sì sì diciamo questa può essere un'infarinatura sul tema pensata per chi ha un business online e deve avere adesso a che fare anche con con questa novità quindi per poter implementare questa cosa ci serve un cmp quindi hai menzionato ubenda ce ne sono diversi tanti altri penso i più famosi sono compliance eh cookie bot sono tutte alternative mh che sono partner google quindi permettono di fare cmp e di gestire il consent mode e ci serve una configurazione fatta fatta bene di questi strumenti giusto allora in questo sì esatto allora mh dico soltanto una eh piccola cosa eh su questo argomento eh eh ah prima di tutto se volete andare a ad approfondire anche la differenza eh della ehm dell'attribuzione delle conversioni sulle campagne pubblicitarie se lavorate con le campagne pubblicitarie in tutti i due scenari proprio per capire magari quale quale configurazione farvi attivare eccetera anche qui ehm vedete c'è tutto un discorso legato alle a diversi scenari questo per esempio è una slide presa direttamente dalla presentazione ufficiale di google ok quindi eh per esempio questo è il caso campagna a campagna b eh in cui non viene attivata la consent mode ok praticamente tu hai la campagna campagna b hai dieci utenti che convertono per quindi per te queste due campagne hanno la stessa efficacia ok nel momento in cui perché questo perché non hai la possibilità di gestire in modo granulare i consensi ed attribuire questa roba alle campagne pubblicitarie e e perché non c'è tutto il discorso di modeling chiaramente per quanto riguarda se tu invece hai attivato ehm la la consent mod vedi che la cosa diventa diversa perché eh a questo punto tu hai chiaramente comunicato a google quali sono gli utenti che hanno portato che hanno dato il consenso a quali parametri e quali no quindi google sa perfettamente questo e e grazie a un sistema di modeling riesce anche a recuperare delle conversioni che tu altrimenti non potevi attribuire la campagna quindi morale della favola poi uno se vuole lo approfondisce però in realtà nella realtà dei fatti la prima campagna aveva un conversion rate del dodici per cento mentre la seconda del sedici per cento quindi la seconda è una campagna più efficace quindi io grazie a questo meccanismo riesco a capire che questa è più efficace quindi ci metto più budget nella campagna eh più ottimizzata e bla 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 altrimenti senza io vedo soltanto dieci dieci per me sono uguali questo è proprio modo eh super super banale ehm ora vi faccio vedere un'altra roba qui velocemente come implementare consent mod quindi ci sono fondamentalmente ehm tre sistemi allora il primo sistema è utilizzare una piattaforma eh di gestione del consenso integrata cmp quindi vari cookie bot come dicevi tu ubenda eccetera come farlo ehm è impossibile fare un tutorial per la consent mod perché ogni cmp ha una modalità di integrazione diversa quindi la prima cosa che io consiglio di fare è andare eh a vedere se hai cookie bot vai a vedere che cosa che cosa ti dice lui perché tutti hanno fatto le guide ovviamente ubenda ha fatto la sua guida eccetera eccetera ehm il secondo modo invece è in fare l'implementazione tramite google tag manager ok che è una configurazione un pochino più ehm complessa e però che ti dà la possibilità di gestire in modo ancora più granulare eh verificarsi di alcuni attivatori legati ad alcuni eventi che però mi sento di dire che forse è la gestione un pochino più eh per per esperti no per chi ha proprio bisogno di una gestione super minuziosa no della cosa o altrimenti c'è un altro modo che è l'aggiornamento della consent mod v1 se era già attivata tramite un una serie di passaggi eh prima di fare questo ehm c'è da fare che cosa c'è da fare vabbè innanzitutto installare il google tag classico quindi innanzitutto bisogna eh vedere se google effettivamente traccia sul sito eccetera eccetera poi abbiamo vabbè eh verificare il traffico del sistema economico europeo diamo per scontato che in questo caso ci sia e quindi implementare il ban un banner di consenso eh una una cosa che dobbiamo dire è che indipendentemente dal fatto che ehm se voi gestite la cosa tramite cmp o tramite google tag manager in ogni in ogni caso voi dovete avere un banner un sistema anche se costruito in house che vada a raccogliere i consensi e vada a gestirli e quindi dovete avere un banner io onestamente eh diciamo per un utente medio sconsiglio farsi la costruzione del banner in codice e poi fare la gestione magari sui propri server di tutta questa storia poi tu non so cosa ne pensi Daniele ma eh no no non prendiamolo neanche in considerazione eh ok e e poi si fa l'implementazione della consent mode per quanto riguarda le cmp partner ho lasciato anche qua nell'articolo eh la la lista delle eccoli qua e del delle cmp che sono diciamo si sono allineate la consent mode per cui installando una loro soluzione e seguendo una loro guida voi avete la possibilità di attivare in modo più semplice eh questo sistema quindi ubenda one trust eccetera questa cosa tra la questa slide è stata presa dalla presentazione eh di Google che però ormai è stata più di un mezzo più di due mesi fa mi sembra perché inizio marzo quindi sicuramente questa lista deve essere aggiornata perché questi sono praticamente quelli che sono saliti a bordo subito prima che che venisse lanciato lo e il v2 ma sicuramente adesso tanti altri sono saliti a bordo capisco l'ultima domanda eh che cosa c'è da aspettarsi quando dopo che sia attivata questa questa consent mode versione 2 allora c'è da secondo me eh anzi level secondo me è quello che ho visto io sui sui vari analytics dei miei clienti allora c'è eh un un momento di instabilità ovviamente delle visite quindi se vedete che nel momento in cui voi fate questo tipo di configurazione nelle settimane a seguire vedete che eh sia in termini di visita in termini di conversione in termini degli eventi avete sul vostro Google Analytics una situazione anomala insomma non spaventatevi perché noi siamo stati abituati troppo bene di avere sempre eh la cosa al millimetro al centimetro e quindi appena c'è qualcosa che non va dice no ma io ho il 5% di visite in meno che cosa sta succedendo dando per scontato che quello che avviene sul sito eh effettivamente corrisponde al misuramento preciso al centesimo da parte di Google Analytics ma in realtà a parte che non è così anche per altri motivi e sarà sempre più complicato anche in relazione a alla normativa cookie list per cui tracciare sarà ancora più difficile eh però in questo caso soprattutto se voi installate e passate una fase di installazione di configurazione se nelle prossime settimane avete un po' di instabilità non preoccupatevi perché poi sicuramente si va a regime eh io l'ho visto anche nelle campagne pubblicitarie per esempio di alcuni miei clienti che proprio a cavallo di quella fase lì c'è un po' di eh di anomalia no ma poi si va a regime è certamente che se dopo eh mesi e mesi vedete che non so avete un un drop del traffico ingiustificato del cinquanta per cento ovviamente mi allarmerei però credo che in questi casi eh si tratta di una roba un pochino più temporanea e soprattutto leggera in termini di dati proprio ok perfetto Igor ti ringrazio tantissimo per averci portato in questo mondo di questa versione 2 e ricordiamo per chi ha un sito WordPress fa business online o per agenzie con clienti che hanno siti WordPress i servizi di WPOK sono a disposizione per tutto quello che riguarda gestione di siti e supporto e anche l'adeguamento di DPR e la parte di configurazione del concept mobile 2. Super super grazie grazie a te Daniele io spero di ehm essere stato esaustivo eh però è anche difficile esserlo eh senza andare troppo nel tecnico per cui io eh se sono stato in eh impreciso su alcune cose vi invito ad andare a leggere l'articolo che qui Daniele lascia e e poi andare anche alla fonte eventualmente quindi andare a vedervi la presentazione ufficiale i documenti ufficiali di Google che tanto trovate molto facilmente perché se avete delle necessità molto particolari con delle soluzioni custom eh con un diciamo il bisogno di avere dei tracciamenti molto molto complessi molto avanzati ovviamente ci sono anche c'è tutta una parte per i developers che Google ha messo a disposizione delle librerie che poi voi andate a consultare vedete il dettaglio ok diciamo che quella che ho fatto oggi è stata una presentazione per noi comuni mortali esatto quell'obiettivo era quello direi che è stato centrato grazie Igor super grazie a te Daniele ciao a tutti